Ciao Libas! Ciao! Quanti anni hai? 17. E vieni da? Senegal. Io sono arrivato in Italia quando avevo 16 anni e mezzo. Dal Senegal a Spagna sono arrivato con la barca. Abbiamo fatto un giro quasi 13 giorni da Spagna all'Italia, ho preso il treno e poi sono finito qua. Mi ha fatto sapere che c'è una barca che deve partire per Spagna. Io non avevo i soldi, non volevo che mia madre sa che io devo andare via. Se lo sapevo non mi lasciavo andare. E poi mi sono prestato tipo 50.000 franchi di un amico e poi diciamo che sono scappato da casa. E' stato duro però grazie a Dio siamo sopravvissuti. Ora sto studiando per lavorare in asilo e nido, fare l'educatore e fare anche altre altre primiere. Ma io piace aiutare, mi piace alla solidarietà. Voglio anche girare alcune zone, ai paesi poveri a darci un po' la mano. Ora si è dicevo umano e sociale, però la capisco bene perché questo materiale parte del giorno della vita. Poi imparlo come si vive, le regole, tutte queste norme giuridiche che ti può aiutare a crescere. Sì, ho imparato tanto, ma io già non sapevo cucinare. Ho imparato a cucinare qua, i piatti italiani, africani, di tutto. A volte rubo i piatti tipo colombiani, i piatti marocchini, il tagine. Ok, grazie. Grazie, Giroge.